È il giorno dei sindaci a Roma che hanno strappato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la promessa di risorse per evitare aumenti delle tariffe autostradali. I sindaci avevano annunciato nei giorni scorsi quelli di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta da tempo contro gli aumenti delle tariffe autostradali di A24 e A25 una manifestazione di protesta dinanzi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Poi è arrivata la convocazione dal Ministro Enrico Giovannini che hanno incontrato assieme al Capo di Gabinetto in delegazione anche con l'Onorevole del PD Stefania Pezzopane che è stata la firmataria degli emendamenti al decreto approvati in commissione che di fatto per ora hanno bloccato i paventati aumenti. Tra i sindaci presenti dell'Aquilano quello di Scopito Marco Giusti. Il Ministro Giovannini si è impegnato, ha detto Giusti a Rete 8, a trovare una soluzione tampone cioè a reperire risorse nella legge di bilancio con un intervento pubblico al di là del PEF la cui approvazione è essenziale ma non immediata nelle tempistiche. La soluzione paventata ai sindaci è quella quindi di un intervento pubblico che in gergo porti ad una sterilizzazione delle tariffe dopo il 31 dicembre. L'attenzione però è sempre alta e si spinge per l'approvazione del piano economico-finanziario perché sbloccherebbe risorse per ammodernare e mettere in sicurezza le autostrade. L'aumento avrebbe comportato danni enormi soprattutto per le aree interne e per tutti i collegamenti con la capitale. Anche gli autotrasportatori più volte si sono fatti sentire in questa battaglia. Ovviamente si tratta di una prima risposta così come lo è stata quella dell'approvazione degli emendamenti ma nessuno intende abbassare la guardia su questo tema molto importante e sentito.